Hai mai perso la persona che ha? Bruce era uno psicopatico. Usava la paura per controllare tutti. Ma devi assicurarti che questo non capiterà a qualcun altro. Oggi un'esplosione ha sconvolto Gotham City. Abbiamo avuto ora la conferma che il miliardario filantropo Bruce Wayne è... Se state vedendo questo... Sono morto. Addio. Buona fortuna. Noi da adesso siamo un gruppo di persone con un nemico comune. E il che fa di noi cosa? Chiamiamola Alleanza. È finita per me ora. Diventa un Batman migliore. Non ti deludeo. La corte dei gufi è un mito. Non farmi il nome. Nemmeno mezza voce. Comanderà l'artiglio... Che calerà... Feloce. Non provocarmi, ragazzino. Adesso ci divertiamo. Stanno ascoltando. Avevo avvertito i miei che non sarebbero riusciti a ucciderti se ci avessero provato. E avevo ragione. Sei in cerca di approvazione. Quello è Robin. Io sono la cura... Per questo mondo malato. è andata. Noi. Noio. Noio.